Il valore della memoria, 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, la parlamentare socialista trucidato dai fascisti, Taranto dedica al suo ricordo una targa all'interno del mercato coperto di Dianfiteatro. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Nazionale Partigiani Provinciale, dalle donne democratiche e dal PSI, con il contributo del Comune di Taranto. Matteotti rappresenta un emblema dei valori democratici e dei valori della libertà, valori sui quali ancora oggi Lampi è schierata in primo piano, proprio perché Lampi ritiene che i valori antifascisti sono presenti nella società italiana e sono talmente radicati nella società italiana che non si possono accettare derive di nessun altro genere. Dobbiamo sempre ricordarci che la libertà non è un valore assoluto e che abbiamo bisogno di ricordarci di questi martiri e soprattutto di continuare a diffondere questa idea di libertà per contrastare invece ciò che anche quotidianamente stiamo vivendo. È importante parteggiare anche oggi e stare dalla parte di chi, come Giacomo Matteotti, 100 anni fa ha onorato con la sua vita e si è battuto per difendere quelli che sono i nostri valori. Giacomo Matteotti è una figura straordinaria, è il simbolo del socialismo, di famiglia benestante ha scelto di difendere i braccianti del Polesina di tutta Italia.